ehi ciao 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 allora fobby donna abbassarlo un po mi sa che anche il mio telefono è oh per cosa allora vediamo un attimo oh ehi no Ok, la live è nominata o sbagliata Ci posso rinnovinare? Ti tu? Ci siete? Ok, la live è nominata Ciao Giulia! Ciao Giulia! Come stai? Ti vede Giulia? Si sente bene? Ciao Giulia! Ciao Giulia! Come stai? Ti vede Giulia? Ti senti bene? Allora, possiamo abbassare un po' questo? C'è il ventilatore che è una cosa impressionante Ciao Giulia! E ci è il ventilatore che è del Duarte giusto? Ti senti bene? Allora, possiamo abbassare un po' questo? cio' E non l'abbassare un po' questo? Non l'abbassare un po' questo? Questo è il ventilatore che è deludato Inoltre, muscire un po' questo? Ci senti bene? Laszare un po' questo? Si senti bene? Allora? Si senti bene? ho sbagliato a dare il nome della live Giulia grazie mille Giulia stavo provando a configurare qui stream element e tutto già sono tornato al lavoro di ritardo tardi diciamo in più grande ho fatto le donazioni ho fatto un po' di lavoro e diciamo che ho ritardato ma non ho neanche visto il grandissimo Jim Lord in in eh si è solo che lo sa fare Leonardo al cambiare il nome della live aspetta com'è che aveva fatto ah Leonardo Leonardo amore mio Leonardo una volta mi aveva cambiato il nome della live allora sto andando un attimo sul computer non so se sto andando a scatti non so che cosa sta facendo aspetta un secondino una volta lui era riuscito a cambiare il nome della live aspetta eh che Carla e Leo sono andati fuori modifiche informazioni dello streaming forse da qua eh aspetta un attimo titolo oh allora sta arrivando Giulia eh oh grazie mille tranquilli allora io questo Giulia l'ho fatto perché quello di StreamElement e le magliette le fanno loro e poi dovrò vedere anche di fare le mie che vi ho già detto che ve le regalo però se volete comprare anche le altre io sono iper felicissimo allora aspetta eh Sniper scusami Giulia dopo ti leggo eh ok Sniper Elite 5 allora allora aspetta welllord marcolino ma che prospettivo promaster stasera eh se funziona ciao allora prima cosa non ho le vostre la chat su sulla televisione quindi devo avere davanti il telefono chi è chi è Loki ciao Loki grandissimo oggi ho fatto una variazione mamma mia è troppo in piccolo devo comprare un monitor grande così allora eh aspetta eh allora adesso avrei forse sono riuscito a cambiare il nome ciao Loki hai fatto politica anche te sulla mia live di foto fa grandi marco sta su pc si sto provando a vedere ragazzi se poi alla fine allora prima di tutto dovrebbe essere giusto adesso la il nome della della live a lord non ho fatto in tempo ad entrare comunque grazie mille e anch'io non ho fatto in tempo amico mio perché stavo e poi tra l'altro ho bisogno dell'auricolare che mi si senta il volume dentro vabbè ditemi raga se si sente eh allora io devo continuamente adesso guardare la chat pure io quando streamo su xbox devo fare la chat sul chat esatto 98 manca poco 100 grande Rocky si sente bene oh perfetto si vola Rocky grandissimo il capitano dice che riemergeremo tra 5 minuti tutto chiaro amico la copertura aerea della una volta che iniziamo il ride usiamo il diversivo di sbarcar sulla spiaggia dato la squadra distruggere le difese costiere ove io ne treza difese qui quindi procedo nell'entroterra per vipera blu è in silenzio mi raccomando non voglio tornare spiego a trovare dei piedeschi se non sono nella squadra rimarremo bloccati ciao frac amico amico allora stasera una live un po' particolare ha voluto provare testare se funziona speriamo che vediate il video bene ecco qua che arriva un'altra grandissima vado a mangiare eccolo qua mi arriva un botto dopo ciao amico buona cena ciao grande frac albono il flettone mostrami cosa fare ti faccio vedere che sparo bam sciacca lacca gli entra nel cervellino poi il pisellino poverino scusami non volevo allora non volevo spararti il pisellino ciao si 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 vede tranquillo ok poi fatemi sapere se si vede a scatti o se comunque lo vedete bene eh perché poi vorrei eccolo qua vorrei fare le live così con tutti i vari si vede tranquillo allora sopra dove vedete l'immagine di marco drams di fianco dovrebbero arrivare quando si iscrive qualcuno quando qualcuno fa la donazione quando qualcuno mi mette l'iban della banca così posso prelevare quanto voglio io ti vedo bellissimo sempre come sei oh grazie Giulia sei fantastico guardi lo hanno fatto l'aggiornamento Gran Turismo 7 assolutamente si Loki allora io l'ho fatto sono andato a vedere le macchine hanno messo tre macchine nuove 2 milioni e 300 mila per comprarle quindi fattibilissimo e e hanno tolto la Tomahawk quindi non si può più e stasera però ho deciso di fare un altro gioco primo per provare la live di domani sera con Rocket League oh ciao e secondo per per provare il gioco nuovo per provare il gioco nuovo bam sbangata allora io raga qui qui non vedo però forse dalla chat se mi dite pettine o roba del genere a meno che mi viene fuori come allora la chat l'ho messa di fianco ragazzi il tipo colomino è troppo bello in onore di Sharder che mi ha fatto il coso l'ho messo porca loca a me caduto il telefono mi è caduto il telefono porca loca ancora il telefono e due non c'è due senza tre non c'è due senza tre alla terza volta si sfascia il vetro l'ho amato vedi proprio di allora giulia ah che bello giulia grazie giulia allora stasera un gioco particolare io l'unica cosa che vorrei capire ragazzi se si vede a scatti se lo vedete bene l'immagine e tutto quanto perché sono tutte sono tutte prove che sto facendo prima di andare a comprare un computer nuovo qualcuno si sta pensando eh si amica mia grazie 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 si 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 non si può più Tokyo è andato Tokyo è andato amico mio allora secondo me quando ne mettono una a posto dopo ciao giulia ciao ryan grandissimo allora stasera farò un po' fatica a guardare tutto l'ambaradam perché sto streamando da ok si può prendere anche altri anni perché sto streamando da xbox ho voluto portare in day one edition questo gioco ragazzi sono pieno sono pieno di proiettili e come si dice non ho la chat su non ho la chat su come lo cambio il fucile ma come lo butta giù ma scusami non ho il tocco le mante il panetra più veloce si ryan io sto facendo sardegna ti dico la verità la sardegna con la oh 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 allora premio y uccisione eliminazione pacifista ok allora io sto facendo con la sardegna sinceramente sto facendo la sardegna con la meclare in bmw allora non me lo ricordo più perché stavo provando stasera mi sembra se non vorrei dire stupidate che è 450.000 più bonus che non mi ricordo quanto ti dà se non tocchi dentro nessuno comunque 450.000 e penso una mezz'oretta credo comunque voi sentite bene ragazzi e vai queste che cosa sono bottiglie marco io ti sento perfetto ti sento no per 100% per 100% ah ma nel senso che volete un po' più alto o si sente un po' di distorsione raga no ve lo chiedo perché devo fare tutte le prove adesso poi devo vedere un attimo allora io sto parlando in questo modo no se vi dite che è troppo alto posso anche abbassare un po' il volume della mia voce capiteci capite se no alzo magari un pelino il che c'ho ragazzi anche proprio il riquadro nel video fatemi sapere se si sente bene oh oh cazzarola oh stai sotto stai tranquillo Johnny allora non si sente al 100% perché sto usando la cosa della webcam dopo devo capire ah potrei però mettere l'auricolare nel computer eh aspetta un secondo aspetta eh non so poi se è abilitato nel oh ragazzi non c'è più niente cioè aspetta devo aspettate non posso leggere è possibile che tutti gli attacchi di sto computer li ha messi da sta parte qua eh sì stivi incoglioniti allora ho messo il oh è migliorato un po' raga che cosa ho combinato no ho acceso il volante mamma che casino che sto facendo raga aspettate eh allora questo che microfono allora ma l'audio del gioco lo sentite ciao charder amico allora allora amici miei è un po' un bordello nel senso che lo sentite l'audio del gioco microfono dispositivo fonte multimediale perché la fonte multimediale non si sente no no questa è la webcam ciao amica mia no no nel senso che cosa non si sente l'audio del gioco l'audio del gioco no aspettate aspettate scusate se non riesco a leggere charder amico mio oggi ho optato per questo gioco qua adesso si sente meglio ragazzi allora cattura l'audio in entrata allora questo allora aspetta è migliore l'audio adesso raga aspetta che sono stanco morto charder è anch'io si sente meglio la mia voce adesso ragazzi l'ho messa sotto auricolare allora eccomi di nuovo ciao ciao amico lord si sente meglio adesso la voce te l'ho messa sotto auricolare si è sotto auricolare adesso la voce dovrebbe sentirsi meglio ragazzi allora perché non mi si sente se era amico mio charder si sente meglio ma più basso come volume ok allora adesso posso alzarla adesso come si sente come si sente ryan grazie ragazzi tutti per la compressione per la compressione e per la speranza di un pettine verde no pettiniamoci 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 oh ok ok adesso si sente bene ciao ryan ciao ciao charder amici miei stasera un gioco da xbox serie 6 un gioco day one edition ciao signor ok perfetto allora adesso devo capire solo allora un attimo allora ok allora webcam tutto dispositivo di cattura video cattura l'audio in entrata cattura gioco c'è c'è cattura gioco cattura 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 gioco cattura gioco perché perché non mi si sente l'audio del gioco allora amico mio forza horizon dobbiamo giocare insieme sì 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 ancora si sente basso aspetta adesso è meglio adesso com'è si sente ancora basso ragazzi ho alzato un bel po' un bel po' è quasi arrivato al giallo vediamo un attimo cosa mi dite amici e non riesco a capire come mai un altro un altro perfetto marcolino alza il volume forse un altro pelo e stiamo a posto ok ok dai facciamo così 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 siamo sul giallino eh basta poco ok perfetto grazie ragazzi grazie gentilissimi stavo proprio ponte multimediale ma non è che è questo no 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 assolutamente no aspettate che sto perché se non si sente l'audio del gioco eh 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 l'audio del gioco si deve sentire ma in teoria l'audio del gioco è questa eh perché non funziona ok benissimo adesso game capture vediamo un attimo game capture no cosa ha combinato no o dimmi giuli aspetta che ho fatto un casino dov'è la web oh ragazzi ragazzi arrivo raga scusate ecco se ne è andato via e non ritorna più sì sì no no ci sono è andato via arrivo arrivo aspettate webcam webcam è un casino ragazzi è un casino ecco aspetta allora la 910 ok ma come mai me lo fa così io sto cercando di mettere il suono della del gioco cattura l'audio in entrata in uscita sarà cattura la finestra cattura il browser cattura il gioco ma cattura il gioco non dovrebbe già essere si vede adesso ok ok no perché voglio farvi sentire l'audio oh mi hai visto non si sente l'audio lo sparatorio raga no ma come mai scusami un secondo solo aspetta no praticamente non mi si sente l'audio del gioco scusate ragazzi se sto facendo un po' di casino ma non che pillo che che trip di immagini manco forse sottoacidi ah 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 eh non si sente l'audio del gioco ragazzi non audio del desktop non c'entra una sega cattura l'audio in uscita niente allora dispositivi di cattura video non c'è niente di cattura video 2 dovrebbe essere questo eh appunto game capture aspetta cosa è scritto fai tranquillo Marco mi spiace non essere l'audio su ste d'aiuto si amico mio è un casino eh oh oh allora dovrebbe essere allora questo non devo toccarlo dovrebbe essere questo qui se attivo questo non è l'audio no questo è un altro ausiliario non riesco a capire cattura l'audio in uscita cattura l'audio in entrata utilizza cattura l'audio in entrata ehi ehi vabbè questo si sente la mia voce sapete che sto sudando ragazzi sto sudando assurdo che non si sente l'audio di gioco cattura cattura gioco cattura l'audio in entrata cattura finestra schermo dispositivo di cattura video fonte multimediale prestazione immagini scena gruppo audio gioco ok facciamo così ok allora eh ma non si sente è proprio spento interfaccia eppure io lo sento oh eccolo qua audio gioco audio gioco lo sentite raga adesso l'audio del gioco lo sentite dovremmo sentirsi adesso vedo che va indipendentemente da dal mio video audio ditemi se poi si sente bene se sente troppo alto il gioco allora in teoria l'audio gioco così però non so per quale motivo poi mi parte quando parlo aumenta anche quello lì vediamo se c'è l'audio del gioco anzi facciamo una cosa stacco un attimo la mia voce e mi dite se l'audio gioco c'è l'audio Cioè si sente male Lord Eppure c'ho Ma se io Aspetta Se io parlo adesso Mi sentite? Se io parlo adesso Mentre c'è anche il gioco Non vorrei che è doppio E quindi tutto quello che Ti scrivo su whatsapp È un casino Lord Io volevo capire Se voi mi sentite Anche adesso Il cervello Aspetta che devo leggere Che cosa scrivete Lord Si sente adesso la mia voce raga? Si sente la mia voce? Sentite la mia voce? Si sente? Io volevo fare queste prove Su Youtube Vi dico la verità Che potevo fare un po' Quello che volevo Che è intelligenza incredibile Ah si sente? Perfetto Allora Non vorrei che era tipo un doppio Che se lo attivo da due parti Fa tipo doppio Quindi audio di gioco Mi dà anche la Proteggere in contatto Lasciarlo morire Dalla cattura Ok Si signore Si signore Si signore Posso fare anche queste stupidate Perché c'ho la webcam vicina Ragazzi Vedi? Non posso tranquillamente Pettinare Posso bere la quina Eh? Ciao amici e amiche di Twitch Io non Non riesco più a Come si dice Non riesco più a A interagire Ecco brava 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 Ok Io vi ricordo ragazzi Che è attivo Il merchandising Di Marco Drums Games Stiamo streamando Dalla xbox Ragazzi Ma anche la playstation È accesa Con gran turismo Che sta Facendo Una garetta Per vedere Tutti i cambiamenti Che hanno fatto Io stasera Dovevo streamare Con La vitica Xbox E PlayStation Uh Bam Nel cervellino Bam Bam Nel cervellino Bam Ho pochissimi proietti Wow C'è il tasto Compra Sì Tu parli In gran turismo Hanno tolto la toma Hanno messo Tre macchine nuove Che una È quella Eh Della Toyota Hanno messo Tre nuovi biglietti Quante volte Dobbiamo fare Forza Horizon Assolutamente sì Amico mio Non c'è problema Bam Boom Assolutamente sì Amico mio Il discorso Forza Horizon È questo qui È che per forza Devo streamare In questo modo Anche se io Potrei streamare Direttamente Dalla Xbox Eh Diciamo che questa prova Stasera L'ho voluta fare Per vedere se andava a scatti Se poi Oh Pettine 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 Hai visto che lo vedo Faccio tempo a vederla Con il Il cellulare Acceso Oh Hai fatto bene Charger Pettine Verde Vai di pettine Vai di pettine Raga Ok Vi pressionare Il fischio Il fischio Attento Attento Attenzione Fili e robe No guarda Reggio Stai Mi fai un casino È un casino Così Pettine Pettine Bevi Bevi raga Pettine 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 Col fischio O senza Col fischio Col fischietto Ragazzi Andiamo di fischietto Obiettivo Aggiornato Sabotiamo La copertura Incredibile 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 Cosa ho fatto Non lo so Cosa ho fatto Ma qualcosa Ho fatto Ciao Carla Amica mia È entrata Carla? No È arrivata qua di fianco Adesso arriva Adesso arriva Adesso arriva Giuri Giuri Vau 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 Ciao Alì Cosa ho fatto Cosa ho fatto Cosa ho fatto Cosa ho fatto Oh vi devo dire Che È vero È vero C'è un'americana Che non c'era Prima E hanno messo Allora La Hyundai Da un milione La Toyota E la Suzuki VGT Da un milione Ah ok Allora Io ho finito I soldi Con la faccenda Che non si può Più farmare Sinceramente È tanta roba Tanta roba Io Tra l'altro Ah Tra l'altro Io ragazzi Volevo Eh sì Però Con la storia Che non si può Più farmare Con la Toma Ho bisogna Comunque Eh Bisogna comunque Io faccio Sardegna Con La NSX Con la Honda Stavo provando E mi sembrava Che andava bene E' più bello Qua Ma le grande Non posso prenderle No Stai calmo Devo buttare giù L'occhio Ogni tanto Per vedere Quando mi scrivete Roba che invece Prima Non facevo Perché Oh Modifica Stazione di lavoro Standard Da cecchino Spizer Dai Facciamo queste Questo che cosa mi ha sbloccato Uh Che cosa fa Questo qua Riduce il rinculo Ok Come il calcio No Eh sì Io controllo No Questo non mi piace Standard Perché non abbiamo ancora nulla Ok Ok Possiamo andare Allora Questo Sniper Elite Amici miei E' uscito fuori oggi E' in day one edition Lo stiamo portando sul canale E vorrei sapere Come alla fine Si vede La live Se si vede bene Il video Se si vede bene La chat Se si vede bene Tutti gli alert Le cose Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al mio canale Eh Eh sì Assolutamente sì No no Portalo Portalo amico mio No 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 Portalo assolutamente Perché Sinceramente Non so quante altre Farò questa live Di Sniper Perché Ti dico la verità Ho una gran voglia Di giocare A Gran Turismo 7 Lasciolation 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 Ha detto Uuuuh Caspita giù Un colpo One kill Allora Un'astinenza Di GT7 E' vero E' vero Grazie di che cosa Amico mio Grazie a te Grazie a te E' vero E' vero E' vero Sono in astinenza Di Gran Turismo Eh lo so A Sharder Ma stasera ho voluto Portare questo Io non riesco neanche Sinceramente A vedere Quanta gente C'è dentro Nella live Voi riuscite a vedere Quanta gente C'è nella live Raga BAM Mazzo Eh Non è che ci sia Proprio tantissima gente Eh Dite di schifare Di andare su Gran Turismo Non so cosa dire Ragazzi Mi sembra un po' Che Domani sera Facciamo Rocket League Infatti Mi sta tentando Ragazzi C'è Assurdo Sta cosa Grande Sharder Allora io vi dico La verità Sono proprio A mio agio Quando corro Riesco a parlare Rite A scherzare Lo so ragazzi Ma io voglio anche Provare a fare Qualche altro gioco Vedere Se vi piace Se riusciamo A divertirci In altro modo Domani sera Volevo fare Rocket League Con lo zio Mario Con No scusami Questo non sarebbe Tipo un apri Ok Sabotaggio Livreatore Carino Ma con coppia Gli amici Che avevamo Chissà quando E' vero E' vero E' vero Vaga Bella Mamwell Grandissimo Oggi Megalive Un po' Diversa Con le nuove Grafiche Però Devo capire Bene Oh Qualcuno Spara Chi spara Devo capire Bene Se funziona Tutto Ciao Fra Che Grandissimo Allora E' un gioco In the one Edition E' uscito Oggi Sniper Elite 5 Colpo La testa Bam No Mi ha preso La pianta Mi ha preso La pianta A me piace Se porti Altri giochi Comunque Oh Che bello Ciao Fra Che grandissimo Pettine Pettiniamoci Sì Allora Diciamo Non voglio Proprio Fare Chi c'è qua Ma cazzarola Non voglio Proprio Fare Il mono Oh Quanti ce n'è Capito Il mono Gioco Ah ok Ok Amico Mio Beh Grazie Che sei passato Domani sera Se Stai più tempo Siamo tutti contenti Perché Ci fa veramente Piacere Che sei qua Con noi E L'occhio è sparito Infatti Grandissimo Fra comunque Bravo Bravo Ti impegni Veramente Tanto Studi Grande 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 Un sacco Un sacco Di gente Qua raga Un bordello Ok Come vuoi tu Come vuoi tu Frac Sai che noi siamo qua Quando ci sei Dobbiamo andare qua Quando ci sei Passa Domani sera Faccio Rocket League Se ti va Di vedere Un altro gioco Figo L'unica cosa Che devo capire Da tutti voi Ragazzi Se vedete bene Se sentite bene E se le live Sono comunque Piacevoli Così Da vedere Questa è una cosa Che mi interessa Perché sto provando Tutti i settaggi Di OBS E vi devo dire La verità Che sono un casino Ok Anche perché Devo mettermi a leggere Su di lì E se sono preso Rido scherzo E parlo tanto Non riesco neanche A leggervi In tempo reale Quello che scrivete Ragazzi Anche se Perché poi Se gioco con Gran Turismo Con questa cosa qui È veramente Un casino Io Mi sento Di sì Perché Se aiutavo Ok È vero È vero È vero Loro mi vedono Da dove Che non c'è nulla Qua Questo è Indubbiamente La settimana Più dura Dell'anno Sabato Non ho più nulla Oh Dai dai Allora Sabato Grandissimo Frac Portiamo Gran Turismo Visto Visto che È un po' Non può Tralasciato Stasettimana E domani sera Facciamo Rocket League Con lo zio Mario Ok Perfetto Perfetto Ragazzi Grazie Se ve lo Se ve lo Scusate Se ve lo Continuo a dire Ma Che se si sente male Si sente rimbombo Cose strane E dopo Devo capire Se si sente Anche quando Entra qualcun altro Perché Va Nel cervelletto Allora Ma E questo Ah Da Dietro E questo Il discorso Giulia Se riusciamo A trovare Dei giochi Anche Che Riusciamo A giocare Insieme È una Figata No Ma dov'è Sto Vandalo Oh Oh Cacchio Quanti colpi Di pistola Parali Madonna Guarda Come ti ho scritto Su Whatsapp Si si sente Gioco Grosso modo Si sente Ma pare Come in lontananza Si vede Non proprio I frutti Non anche Scatti Piuttosto Sembra Come Avessi Dei cali Di frame Ciao Frac Buonanotte Ok C'è Il video Buono Ma I cali I cali Purtroppo I cali Sono aerei Oh Cacchio I cali Purtroppo Oh My God I cali Purtroppo Che non ci sono Nella webcam Vero I cali Aiaiai Note Fra che Nota Amico Mio Eh Si Mi sa che sono stato un po Azzardato non ho non ho visto tutti quelli che c'erano qua e te lo dico io perché perché allora caldi di frame della webcam va benissimo perché il computer ce la fa invece con l'obs e il legato probabilmente ci vuole più potenza di computer e non ce la fa stagli dietro ciao amica ciao amore non lo so ah la cassa serve per nascondere i cadaveri per non lasciarli in giro c'è il nostro amico sharder che purtroppo l'ho lasciato da solo anche se non volevo e adesso ormai la live è andata ragazzi faccio questo e poi dopo ciao ciao amici ah lì che bello però eh quanto bello vedi che va un po' a scarti i visi che questa roba qua è quella del computer che no ma non è tanto eh io voglio vedere capire come lo vedono poi i ragazzi capito perché eh bisogna poi vedere com'è se da cellulare comunque si vede bene che non dà troppo fastidio e se magari si mette su un televisore speriamo speriamo è vero è verissimo ma tu lord Giulia avete la possibilità faccia felice volevo farla faccia felice e non triste tu hai la possibilità amico mio orca loca no no allora oh sono bersagliato dappertutto ancora avete la possibilità Giulia e Lord di vederla sulla tv per caso due minuti tanto per capire a parte che si continua a morire e non va bene per vedere sulla tv se magari visto in grande perché un conto è vedere su eh vabbè insomma ragazzi ma qui sono dappertutto cazzo di senso ha a farlo così ok allora lì vedi tanto con le scatte ok? invece sul tuo cellulare no? eh vedete no? se non si vede se si vede bene se lo facciamo qui no? qui no vado lo scatto vedete qua non so quello che sta chiedendo no 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 non c'è steno c'è qua ma come vuoi? qua non è scatto quello qui dice ma non fa scatti non è fluido eh eh quella la fluidità è che non ce la fa il pc si si ma lì li vedi proprio scattoso ma no e adesso vediamo se la Giulia e Lord riescono a mettere su un televisore che il tv si vede molto più grande Lord dice che sta vedendo già la tv ah ok e lo vede bene ok Lord ma cos'è questa roba? si è colpo alla testa orca loca orca loca guarda questo ah 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 io ho sparato un centimetro BAM direi che vai da standard così corretti insieme eh ragazzi chiudere una live e aprire un'altra è sempre una una brutta cosa eh all'occhio cacchio cacchio deve proprio cambiare adesso poi ti BAM dai dai il il ah ok eccolo qua ok ok non si può fare più niente va bene ciao 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 ah ok ok non si può fare più niente va bene va bene Kevin come ti sembra la live fatta così come ti sembrano gli scatti se è fattibile se si riesce a guardare comunque secondo te com'è? secondo te com'è? c'è il fatto che stai solo suggerito vero? shard si 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 allora l'interazione con voi ragazzi è veramente difficile così eh l'interazione è davvero difficile perchè sinceramente devo leggere su un altro dispositivo stasera io dovevo giocare col mitico sharder a Gran Turismo perchè glielo avevo dato ieri sia con la macchina e pista eh si Kevin ho visto eh bisogna vedere se prima o poi faranno un ma io devo dire una cosa come si fa a prendere uh c'è anche le abilità in punto abilità ok ok Marco mi fai ridere perchè ti sporsi la testa e non reggi bene a noi eh lo so rimane Panam ok ok non faccio quando stremo su xbox eh si eh bisogna vedere il cellulare io vedo che sale oh cacchio c'è un pezzo di legno no no dai 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 nel senso quanti ce ne sono oh ma quanti compiuti da fare è un cecchino adesso non spara più Allora C'è No, guarda dov'è Cosa succede? Cacchio Vai la bomba anche No dai Oh Allora ce lo becchiamo Tutto valordo Oh Bam Potete giocare con Marco Drams? Grazie, grazie, grazie Oh caspita quello là sta chiamando rinforzi eh Eh Ok Un allarme è andato L'altro Spam La bellissima Le inquadrature Sì 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 Ui 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 Ma perché mi arrivano da dietro così proprio E non muore Sei morto Ok Graficamente fighissimo E' bella la nota Ma tu non vedi allora la sciasta? No E' bellissima Mi piace tantissimo E' carina carina No, la vedi scattosa Di sì E' importante che non sia una roba che dà fastidio no? No Perché appena appena non fa niente Mi fa vicino a me un po' Sì Se mi fai passare Sì Ecco questo è un altro discorso un po' più incasinato infatti passare Prendi da via leggiunghi Ecco vedi Ho fatto un bordello ragazzi L'ho spostato Ok Allora Sì sì Basta che sia fresca Sbang ed è Bam nel cervello Allora diciamo che riesco a interagire molto più velocemente Molto meglio Ui Bravissimo Ecco qui ragazzi Che bello Però E' strisimo Ecco che ho sbagliato ancora Eh sì Però è bella Solo che con l'omino lì a giocare che sto gioco Quale? L'omino in Formula 1 Beh l'omino in Formula 1 Ma se così per prova Oh Mio Dio Un secondo Un secondo che uno Sbaglia Sbaglia un attimo Incredibile Sono morto ancora Sono morto ancora Incredibile ragazzi Beviamo Beviamo Allora Sbaglia un attimo Sì, ora è finito. Ok. Come è dark? Dark soul, signore? O Sniper è detto. Sai che lo sai amico mio? Sai che cosa bisogna fare? Mettere un monitor lì per lasciare te lì di fianco e fai passare dal cellulare lì, così la legge bene. Come? Non sbaglio. Perché ti ripeti? Perché ripeti? No, ci sarebbe da... La nostra tv fa il peer-to-peer, quindi immagine nell'immagine. Immagine nell'immagine io posso magari mettere la chat, non so, dovrei provare. Solo la chat. A te interessa solo la chat? Nell'angolino solo la chat, però non so, sono tutti esperimenti e devo vedere da dove la prendo, cioè dove mi esce una chat. Il problema è il computer, il computer fa tutto. Con un computer fai tutto. Perché puoi decidere cosa esce sul monitor, cosa va nell'altro. perché qui fa talmente tanto caldo che non si può e il ventilatore fa un po' di casino, no? Ma c'è con la parte di silenzioso, non senti l'intelatore, senti l'intelatore lasciato, non pensi? Eh, si sente un po'... Sì, sì. Ah, che lo mettiamo dentro nel cassone! Sì, sì. Sì. Per mettere qua, quello la che fa girare l'aria. Là in fondo, dove era che mettavamo? Non puoi ammetterlo che non gira, che me lo punta in faccia? Così? Sì. Eh, basta che punti qua. È vero. Oh, via, 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 via! Porca loca! Così, no? Sì. Sì, sì, basta. Guarda poi. Così non c'è rumore. Così è silenzioso e non è. No. Perché c'è aria, perché... No, c'è aria. Fa caldo, Lelie, Livi, vieni qua che salutiamo gli amici, vieni. Sì. 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 I generatori. Gli amici. Ciao, Livi! Poi non riesco a vedere quante gente c'è. Tante informazioni in me, la PlayStation è una cosa incredibile. No? Noì. Oh. Olivi! Ehhh. Ehi, guarda Oli. Ehi, ecco Giulia, c'è Oli! Olivia è bravissima è bravissima questo è un generatore sai che c'è anche l'aria Loki ciao Loki grande Loki allora domani sera facciamo rocket perché avevo già deciso di far rocket con lo zio Mario e invece sabato facciamo tutto giorno gran turismo e la maratona del 2 giugno? niente la settimana prossima la settimana prossima tutto è un colo di cidra che cos'è? non mi lascia l'andante che vomita sta caldo non ce la fa niente stare qua con noi allora ciao sono ti ritornato ciao Giulia eh sì oh aspetta se me lo prendi devi leggere tu sì io devo ancora fare le mie Giulia non ho tempo non ce li ho le unghie che colore fai amica mia eh sì non ce li ho non ce li ho neanche guarda è cortissima generator allora io gli faccio colore arancione bello anch'io voglio farle così arancione con giallo poi ti faccio una foto te la faccio vedere va benissimo grazie 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 io ho solo i piedini fatti i piedini belli di Bragali sì wow buonissimo ci conto però il mio telefono è caricato ti scrivo con il telefono di Marco non riesco a capire nulla è una live molto strana ma perché sei seri sta dicendo perché non è la mia live cioè io ho la live con voi in tempo reale che mi arriva sul monitor non ho questa roba qui di vedere il cellulare per il gioco comunque questo qui non è che si può non è che si può ridere tantissimo su un gioco così Giulia no è caldo è stanco è caldo è stanco un po' tutto Giulia però è proprio la questione che secondo me la playstation è veramente una figata fa tutto dentro alla console non c'è bisogno di niente di esterno non so se capisci quello che voglio dire perché mi ha buttato giù il fucile sto scemo allora ti faccio ridere io vai che perché poi capisco cosa devo fare e quando non capisco le cose nei giochi muori a grande morì allora maurizio amico mio amico mio amico mio che bello vederti qua allora vedi che ho fatto le grafiche strafichissime nuove però manca un computer che cornicere a e di vedermi amico mio qui si sale di grado ma bisogna oh pili di porco bisogna Marco loro ti faccio ridere un caffè splash perché è entrato nel caffè ah bella grande maurizio grandissimo allora è una prova che sto facendo maurizio per ciao ciao light grandissimo oh amico mio se non sei iscritto iscriviti al canale voglio vedere se viene fuori il banner grandissimo poi io ci vedo pochissimo mi sembra che è light grande light sì è prima volta partite prima volta oh grandissimo light sei iscritto nel canale ah è venuto fuori ah guarda sopra guardalo sì è venuto il banner grande light eh non ce la teniamo per più a moto è tutti esperimenti qua io non riesco a capire niente ragazzi sono troppo vecchi per queste cose grazie grazie light grandissimo ho visto il banner venire fuori eccolo qui guarda guarda ah no è venuto fuori ah minchia così tanto ritardo sì sì uh guarda vedi ah che figata bisogna tenere proprio fuori le va allargata dopo dopo metto a posto il banner comunque grazie ti aspettiamo domandolo grandissimo light dopo mi iscrivo anch'io al tuo canale aspetta no lì sta andando il tuo però ve lo faccio dopo è mitico è messo la la giulista venendo fuori benvenuto 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 al canale di Marco Drums stasera vedrai qualcosa di un po' strano amico mio perché ho delle difficoltà a configurare bene OBS e quando ho delle difficoltà a configurare bene OBS se un po' meno non si può dire non si può dire comunque ci sono dei banner fighissimi ok che potete farmi pettinare Giulia mostra all'amico la ah va che brava la Giulia va che brava l'ha già fatto ai compra ai social e ai mitico la Giulia fa tutto ci sarà anche domani è un piacere comunque ehi grandissimo light grazie allora domani faccio la stessa cosa così strafichissimo forse c'è anche la faccia dello zio Mario se riesco a fare tutto fatto come si deve portiamo Rocket League dopo ti aspetto sabato facciamo Formula 1 2021 ma al primo portiamo in day one edition Formula 1 2022 ok ti aspetto e poi Gran Turismo 7 sabato domenica adesso poi vediamo come mi gira Giulia ha attivato il pettine eccolo qua vedi c'è il pettine light puoi usare i miticoin stavo dicendo a Marco di mettere il bacio i bacio Carla c'è già il bacio Carla da due giorni che certo ho fatto anche vedere allora c'è il bacio Carla il bacio Marco poi c'è il baby col bicchiere abbiamo cambiato l'icona quindi se tu cliccherai 50 miticoin che sarà la moneta del futuro amico light la moneta del futuro bacino da Carla altro che bitcoin ecco la Giulia bellissima 10.000 mi baci costano no che bacio a Marco allora se tu che devi baciare loro vai vicina c'è da che bacio è ha ragione bacino da Carla che bacio a Marco ah ma io che devo mandare baci a loro eh mia moglie mi ha baciato è sempre un motivo per baciare il suo uomo allora e comunque oh prendimi sta roba e comunque amico light io streamo da pc ho fatto qualcosina dai vai giù e prendimi tu ciao ciao dsc grandissimo guarda che cambiamenti dsc moris è fazzesimo moris mi vedi allora amica smiavano stasera che ci sono picchia cos'è fatto light si è abbonato davvero fai vedere oi bizzum moris in un abbonamento di livello vediamo di chi è ma è light forse grandissimo e non vieni fuori qua ragazzi non vedo però aspetta vai vai un attimo con il mouse ragazzi scusatemi è la prima sera che stiamo usando questo tipo di ciao maurizio amico mio grandissimo ciao maurizio ciao buon lavoro si tesoro oh light grande ti mando un bacio hai risparmiato 10.000 miticoin ti mando un bacio ti mando grazie light davvero bravissimo grazie mille ha fatto il tifo con 4 bit maurizio grandi ragazzi che bella serata da serata è passata a una mi aspettate serata molto bello grazie mille light gentilissimo tra l'altro dopo mi vado a scrivere anche il tuo canale e mitica Giulia perché vedi si si vede anche qui vedi che qua si vede in maniera un po' diversa non sono neanche ferma vedi possiamo anche mandarlo giù a parcheggio vediamo se lo mandiamo giù parcheggio si riesce a vedere qui e qua abbiamo più 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 cosa della chat 400 549 ragazzi manca un follower a 550 chiamate qualche vostro amico parente fate un account veloce a gatto a cane forza raga dai 450 stasera che gioco è DSC sniper elite 5 sulla xbox serie 6 amico mio però domani corriamo domani corriamo robie c'è robie robie amica mia robie c'è robie ti mando un bacio tutti i baci stasera i baci costano 10.000 mi dico allora ragazzi domani sera facciamo una live come questa ci dovrebbe essere anche la faccina del grandissimo zio mario e facciamo rocket league rocket league così ci divertiamo un po' andare in gioco con la macchina a fare bordello poi sabato e domenica ci sarà il solito formula 1 e il solito grand turismo strafighissimi che che sono una figata assurda e torneremo nell'altro modo è la giulia non ha più mitico guarda giulia ti do hai fatto bacio carlo bacio marco fatto ti do un bacio io smack smack hai risparmiato hai risparmiato 12.000 giulia perché per fare il bacio marco ci vuole 12.000 mitico light e mitico sono la moneta di giochi che cos'è i pettini ho riscattato questo 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 guarda marco drums che si guarda che si pettina col pettino mitico perché dopo ogni gara amico mio bisogna pettinarsi pettinarsi col pettinozzo poi c'è il bevi bevi e poi mi sembra che non ci sia altro altre cose fighissimo questi sono i mitico robin marco e questa sera sei mancata robin grandissima sono senza il telefono qua per iscrivervi cosa avete fatto con il mitico abbiamo cambiato tutto robin mica mia robin costa 10 mila baci di cali 12 mila baci di marco esatto però guarda a robin a giulia agli altri no agli altri no vi mando un bacio risparmiate 24 mila mitico amiche mie e do un bacio anche a light anche se penso che non lo vuole però glielo ho dato lo stesso non entrerà più ha fatto l'abbonamento grazie light è grandissimo ragazzi noi streamer piccoli viviamo di abbonamenti e viviamo proprio di pane e fagioli pane e fagioli che non si dice assolutamente pane e fagioli c'è robin domani corriamo no domani corriamo con rocket league robin ah rocket league no facciamo rocket league che quel giochino ha messo la faccia di mia che scorre che è bellissima si è bellissimo adesso si è ripreso prima era serio è quando 6.000 allora io ne ho 6.000 niente baci ti do un bacio io ho risparmiato 12.000 miticoni dai allora allora questo game è nuovo è uscito oggi ecco la xbox serie 6 si chiama sniper elite 5 siamo dei cecchini e bisogna allora guardate ragazzi stasera è la prima live con le nuove grafiche diciamo che è tutto un po' un problema esatto grazie lord grazie lord e non lo so cecchinaggio su nazi ok grazie marco robin si è un gioco di cecchinaggio quindi io sarei un cecchinatore a questo punto no Giulia scrivi marco dram cecchinatore per cortesia e diciamo che mi ero un po' inseriosito prima perché uno faccio una fatica a leggervi ragazzi cecchinatore la Giulia vedi cecchinatore la Giulia manda un sacco di baci e quindi faccio un po' di fatica a leggervi vedete infatti se vedete che devo buttar giù la face ottenerla sul cellulare invece normalmente quando gioco da playstation 5 mi vengono fuori i vostri messaggi in tempo reale sulla televisione e facciamo botta risposta proprio è veramente fichissimo invece qua devo devo veramente un po' incasinarmi il cecchinatore esatto vedi ragazzi dai che si riprende a inventare anche le parole perché è un po' di tempo che ci siamo anche un po' persi con questa nuova roba che è rapidissima come funziona negli altri giochi allora light allora light funziona così se vuoi possiamo giocare insieme non c'è nessun problema quando faccio le serate gioco online con i miei sub o comunque con i miei amici lo dico e si fa la lobby ci scambiamo l'id della playstation o comunque se giochiamo da warzone 6 su xbox serie 6 o da pc con l'id activision si può giocare insieme se vuoi solo vedere e stare con noi per la chat meravigliosa che abbiamo non c'è nessunissimo problema vieni stai con noi e ci divertiamo se invece io vorrei un abbonamento ragazzi un follower vorrei stasera per veramente essere contento non conoscete nessuno al volo allora roby forse le ho per le wii ovviamente una versione precedente eh si eh si roby eh si è roby marcolino io e Carla nazionale grazie della compagnia domani ciao Loki amico mio ciao ciao Loki grazie a casa domani domani hai visto? la maglietta dei Pink Floyd allora eh Roby c'è anche ciao Loki esattamente eh Giulia fai ai compra per piacere così vi facciamo vedere così vi facciamo vedere dopo la mitica Roby va sul sito dove c'è il mio merchandising ragazzi eh le magliette le magliette amici miei eh ho fatto le magliette amica mia Roby ciao amico buonanotte allora diciamo che le live così sono più animate più più belle quelle di Gran Turismo invece c'è molta più macchina molto più schermo di gioco molto più gioco bravissimo non viene la U termine eh però è bello solo che dobbiamo trovare un modo di metterti adesso lasciati un po' più grande il problema è è un po' complicharello si può dire complicharello sai che ho visto una roba che proietta lo schermo del cellulare in A sì sì oh questo questo cazzoide qua da dove è crescito ah 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 oh non ricordo se è proprio sniper dovevi controllare oh l'adattatore fucile per il tecomando della guida oi grande grande Roby forte almeno vediamo te a giocare no anche lei no non si può vedere a giocare però sappiamo no ma che cos'è sta roba qua ma io voglio solo curarmi ah è da qua se posso un consiglio aumenta light non ci sta scrivendo ma se posso un consiglio aumenta un pochetto lo schermo del gioco perché si vede un po' piccolino un po' piccolino si va bene stavamo spiegando è la prima oggi light è la prima schermata no fatta così che di solito noi abbiamo la schermata full del gioco lasciate si vede molto bene nell'angolino e la faccia mia e la faccia mia di maco è nell'angolo in alto piccolina e tutto comunque grazie adesso si 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 assolutamente adesso non posso farla mentre sono in live perché non mi fa spostare il riquadro però assolutamente lo allargerò lo allarghiamo un po' tolgo magari quel cretinetto lì in piedi no è bellissimo è il mio pilota di Gran Turismo no ma ci sta è che questa qua la puoi fare un po' più piccolina chiudiamo un po' la telecamerina nostra e allargo un po' quell'altra facciamo una roba del genere allora dai si può fare si può fare allora stasera è un esperimento perché volevo poi effettivamente vedere se il computer ce la fa a reggere una live e a farmi andare non a scatti il video a far vedere bene a sentire l'audio l'audio di gioco e un po' tutte queste cose no light e allora diciamo che stasera infatti non volevo neanche farla su 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 Twitch su Twitch volevo farla su YouTube però si vede benissimo sembra che a vedersi si vede allora hai compro assolutamente sì assolutamente sì ragazzi e oh 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 cioè inaspettati questi due sì sì beh ma l'ho fatto molto facile se no adesso è già morto è già così e si muore chard l'ha messo tante carla poi ci sono queste icone fighissime light le icone ficosissime stacco ragazzoli sono prena niente ok amico mio non ci gioco da tempo Wii sport sono i miei preferiti anche per quelli si sono gli adattatori ad esempio la bacchetta da tennis giulia buonanotte amica mia buonanotte domani ci sentiamo buonanotte mandami pure la foto in whatsapp e poi la faccio vedere in live è arrivato il shutter light buonanotte allora ti canto la canzoncina giulia giulia mia buonanotte dormi vicina dormi dormi amica mia e vedrai no 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 il oddio come oddio dai era bellissima adesso stavo arrivando la parte più bella mi avete fatto fermare e non mi viene più e la madonna addirittura non fare liquida buonanotte giulia notte stacca tutto e la madonna ragazzi c'è cattavo queste canzoni miei figli sono diventavano voi no venivano dalla mamma dormi giulia l'or fate tante coccoline dormi dormi le pecorelle che saltellano ti faccio incobie incobie a tutti sta a corre troppo mi fa l'infarto allora il gioco è bello domani facciamo rocket league lo proviamo però domani sera ospite lo zio mario quindi ci saranno due webcam se funziona perché sinceramente è stato emozionato non hai visto ancora niente grande grande light domani torni ancora vedrai cominciare ti aspettiamo anche tutti i giorni anche solo per un saluto light mo sbando ciao mo sbando si si vuole bene amico mio infatti mo sbando mentre sta correndo sbando dalla grandiosità di questa canzone ciao giulia anch'io ti voglio benissimo e domani voglio vedere gli abbiamo scassato il collo questo ragazzo poverino non lo volevo fare ma ti ho scassato il collo c'è un altro qua lei è la nostra cagnolina Olivia che c'è anche la l'emoz nuova si si sua bam dal casco sei vinto Roby Olivia è arrivata Olivia amore di papà e mamma grazie amica è bellissima Roby Coricione notte Roby notte Lord allora noi normalmente le live in settimana amico mio le chiudiamo le chiudiamo light di solito le 11 11 e un quarto non di più perché poi dopo ne amore mio anche ho ali c'ha sonno vedi che c'ha sonno ali e c'ha sonno anche il marchito e la carlita eh sì la carlita di più eh tanta roba tanta roba tanta roba di sonno eh invece al venerdì e andiamo un po' altranza ma no ma sei fuori ma mi sono autoammazzato ma non ci credo ma non ci credo ma non ci credo pettini ah ma missione fallita perché mi sono autoammazzato Ollie Roby dice Ollie eh facciamo l'ultimo Spezos e io direi di farci anche una bevitina eh una bevitina allora adesso sto giocando da Xbox Series X Lite e invece ehm normalmente gioco da Playstation 5 aspetta aspetta che beviamo non c'è nessuno che mi manda un bevi allora pettine verde light grandissimo ah ah pettine verde non l'avevo visto prima light scusa no è arrivata adesso ah si 13 minuti ha fatto il tifo con 50 bit grazie Lite guarda qui ti bevo allora ti bevo grazie mille ti bevo grazie mille amico bevi 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 bevo bevo mi pettino fortissimo ragazzi è una cosa fichissima ce l'avete solo su Marco Drums Games Channel il bevi e pettina comunque io ve lo dico che c'è solo da Marco Drums Games Channel bevi e pettina caspita Lite grazie grazie infinite davvero gentilissimo gentilissimo spray ma allora light dovrò fare un qualcosa per i miei amici abbonati qui pettinati robbie messi pettini ancora pettina vai robbie pettinino via tutti i soldi pettiniamo anche il drago ragazzi andiamo a pettinare un po' il drago e che poi tra l'altro è una cosa assurda che viene anche in ritardo perché noi vediamo la chat e vediamo le immagini e sono in ritardo dsc dice robbie ha riscattato bevi bevi pettine light 45 grazie amico mio grandissimo grazie di cuore grazie grazie ti devo fare un regalo in gran turismo dai ti faccio una livrea sceglie la macchina beh sceglie la macchina è un po' difficile perché le ho comprate tutte però ti facciamo scegliere una macchina che ti piace è una macchina che ti piace no pensavo a comprarla no amor perché sai che noi noi light facevamo così vado su noi parlavamo tutti i giorni esatto soldini per arrivare alla sera in live e poter comprare automobili e facciamo scegliere a voi ecco insomma ne amor ogni giorno cambiavamo no i nostri amici noi abbiamo scelto la sua macchina ognuno scedeva la sua macchina e e la si comprava adesso diciamo che le ho comprate praticamente quasi tutte e non si può più BAM nel cervello farvi comprare macchina però potete ti faccio scegliere una macchina che ti piace e vediamo schermo mi piace grazie DSC eh cosa ha fatto DSC ha detto che ha lasciato insieme schermo piace ti piace anche noi stiamo provando un attimino a trovare le dimensioni sia dello schermo gioco ho pessimi gusti di macchine qualsiasi macchina che ti piace ti faccio una una libreina dai assieme al nostro amico Scharder si 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 che è un libreatore libreatore ufficiale mondiale uh ed è bravissimo quando entreremo in GT7 ti facciamo vedere farò vedere tutte le librerie che ha che ha fatto per noi per Marco Drums che è il channel noi amici e lui è amicissimo nostro grandissimo Scharder giochiamo anche insieme facciamo l'online oh caspita ma quanti ce n'è dai ragazzi non sparatevi non sparatevi non sparatevi e muori no no l'aiuto è grandissimo oh aspetta aspetta posso rivivere Mickey Player ciao Marco scusa se ultimamente non sono stato molto presente ah Nick verifiche ciao Mickey grande oh non posso permettere di stare troppo tempo a rilassarmi sono passato per fare un saluto ciao grande grazie mille del saluto la scuola dai tra un po' finisce la scuola amico mio così ma no ma cosa sto facendo sto scemo lì così finisce la scuola ci vediamo anche più spesso amico mio dai dai grazie di essere passato grazie grazie davvero di essere passato io metterei il logo del drago tutto a sinistra e poi qualcosa di scritto accanto brava dove qua sinistra e poi scriviamo scriviamo di ricordare di seguirli il nostro canale allora aspetta però il logo sinistra sì sinistra ci sta aspetta perché in mezzo ci sono mitica robie sai chi si abbona o fa tutte queste tra l'altro i beats perché non sono usciti fuori non c'era perché chi si abbona fa queste cose no a mitica robie ehm che sta così allora allora si chiudi ok va bene così va bene robie in tempo reale ragazzi dove c'è allora perché in mezzo al vuoto robie quando appaiono gli abbonamenti e queste cose qui no i follower in teoria adesso i follower e gli abbonamenti è venuto fuori non lo so se è venuto fuori non lo so che cosa è venuto fuori con cuoricini non lo so cosa che ho fatto ma ha lasciato una bomba ma sei pazzo Marco un pazzo malato un pazzo malato è bellissimo si così e poi dovresti mettere qualcosa per riempire lo spazio nero e quello spazio nero lì robie quello che stiamo dicendo ci sono tutte le varie robe quando le fate voi però adesso non stanno funzionando ancora tutte nel senso adesso quando il mitico light mi ha mandato i beat dovrebbe uscire fuori grazie mille che mi ha dato i beat quando uno fa l'abbonamento dovrebbe venire fuori l'abbonamento sembrando il gioco io vorrei provare su serie X su serie X allora serie X sono anch'io il gioco sinceramente mi sta piacendo parecchio allora come dicevi tu che è un po' piccolo lo schermo si effettivamente io di solito faccio la schermata intera dei giochi e probabilmente posso anche streamare direttamente da Xbox senza senza usare le grafiche fighe così però volevo provare stasera a usare le grafiche fighe no allora saluta deciso che è entrato adesso ciao deciso bella supermarco bella supermarco ok grande deciso il mio il DSC che ha detto a destra del logo c'è tanto spazio no così potresti aggiungere lì la roba allora diciamo che nella schermata normale io allora tra il logo e la mia faccia così vorrei mettere due webcam per invitare anche altre persone nel senso domani entra zio mario e io metto zio mario lì di fianco quando poi giocherò con morris e magari qualche altro amico a warzone lì ci staranno le due immagini loro proprio per fare questa qui io la voglio usare come una una piattaforma proprio di live non di gioco capite quando invitiamo eh capito quando invitiamo gli amici queste cose perché ottima idea è deciso sì è capito è bello anche chi è bello grande diceci grazie è capito almeno riusciamo a interagire un po' più grande il nostro video lasciate sempre fuori il gioco comunque va visto ecco il zio mario ciao 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 a megalive guarda cosa ha combinato marchito sono riuscito a fare questo zio mario purtroppo il computer è quello che è fa un po' fatica a farlo allora 7.20 con lo schermo piccolino è gradevole è gradevole poi domani sera proviamo con rocket league che invece va un po' più veloce insomma di questo gioco qua e e mettiamo la tua faccina eh zio mario così almeno facciamo le cose fatte bene fatte bene fatte bene io ho messo a posto altre cose per il canale eh lo so me l'hai detto zio mario infatti domani ricorda i ragazzi che abbiamo un zio mario qua sì 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 allora domani sera ragazzi e iscrivetevi al suo canale del mitico zio mario xd che è un grande mi ha aiutato a fare delle configurazioni a perdere anche il suo tempo per poter fare delle cose che poi alla fine comunque vabbè il mio computer poverino fa quello che può ci siamo riusciti in questo modo come vedete stasera più di così non mi posso vedere più di così ok più di così sinceramente non riesco a farlo con questo computer quindi poi grazie a voi con le sub e con le donazioni e tutto insomma dai riusciremo magari a fare qualcosa di più figo e comprare un computerino io volevo prendere un bel logitech DD Pro per poter giocare i giochi di Gran Turismo e Formula 1 e tutti i giochi così a livello proprio un po' più professionistico che il logitech G923 però per adesso va così e stavo spiegando ai miei amici ultimo tigre 90 uuuu uomo tigre na 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 eh lo so che non si può cantare per copyright però amico mio quando entri tu la canzoncina nel mio cervello c'è sempre amico bellissimo Marco Droschitz sì signore grande uomo tigre grandissimo manuel oh manuel grandissimo ma come mai è tutto giallo ah e perché così grande manuel grandissimi ragazzi oh salutate e iscrivetevi al canale anche del grandissimo light che è entrato stasera ma perché fa così togliti sparisci allora allora dove c'è la parte nera usciranno le notifiche dei comandi comprati con i miti coin eh quelle dei miti coin non lo so sinceramente non si sa come si mette eh devo tutto configurare Giulie però sì in realtà dovrebbero uscire tutti quei comandi quando mi fanno le sub che sono le iscrizioni quando c'è il nuovo follower quando sì gli abbonati vieni già fuori infatti light kill no? quando si è iscritto è venuto fuori qualcosa sì 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 light è venuto fuori no no è venuto fuori proprio il banner di iscrizione poi è durato poco devo farlo durare più tempo oltre qui sottoscrive abbonamento esatto sì devo abilitarlo è come i bot quindi devo entrare dentro nei programmi abilitare non so le sottoscrizioni chi mi manda i bit e tutte queste cose qui Robi capito però il discorso è proprio fondamentalmente che ma no ma che cacchio ma no un'altra bomba aiuto aiuto no ma questo gioco è pangato è la seconda o terza volta che faccio esplodere e niente è una questione che devo metterla a posto devo metterla a posto grande Emanuel e fare le cose mentre stiamo andando amore mio è tutto lento è tutto lento è tutto lento e niente iscrivetevi anche a lightquill 1886 è grandissimo è arrivato stasera si è trovato subito bene mi ha fatto bit e sottoscrizione quindi è grandissimo ti ringrazio tantissimo anche abbonamento non so che hai seguito il canale no abbonamento ho seguito il canale iscrivete i bit grandissimo grazie grazie dovresti fare quando qualcuno si abbonda manda a bit ci sono degli effetti speciali si è quello ma è uscito è uscito prima solo che ha durato molto poco è uscito quello del abbonamento così non ti distraggono mentre gioca è uscito proprio dove c'era il drago dove c'era il drago in nero in nero sul rosso quindi chiamate attenzione guarda fate una bella cosa fatemi un altro abbonamento ragazzi che siete dentro così vediamo come funziona figurati sei simpaticissimo grandissimo siete mi sono accorta io sorry no niente no 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 è perché è arrivato dopo no no ma è arrivato dopo no si è arrivato prima anche si 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 dovreste ragazzi siete grazie grande grande io corro io corro dovresti il mitico shader che anche Marco e anche Loki e anche Monster ti aspettiamo light alle mega live con Gran Turismo che corre Carla è bravissima tra l'altro al Nurburgr Nurburgring Nordrish Life che l'abbiamo soprannominato noi amici per ridere e scherzare il Nurburgrino e quindi quando Carla uh quando Carla corre la maggior parte delle volte si fanno il burgherino tra l'altro con l'acqua che è una cosa uh gli abbiamo spacciato con la pioggia con la pioggia si è entrata prima ah si prima che ci fosse si prima della Roby della mitica Roby devi vedere beccare la live e comunque diciamo che è tosto nel senso che anche anche configurare proprio tutto lo stream element tutti OBS tutte le cose è un casino è tanta roba è tanta roba e poi è proprio una questione che richiede tantissimo computer non me lo aspettavo è un'ora prima della live che sei stato qua è a fare tutte le cose ho abilitato le donazioni ragazzi ho abilitato il merchandising quindi ci sono i cappelli ci sono le magliette le felpe da uomo da donna ho fatto tutto il lavoro chiaramente è il merchandising di Twitch quindi è di stream elements e non so effettivamente come funzioni ragazzi cazzo la ruola ma quanti ce n'è ma poi perché ce n'è così tanti tutti insieme dai piazza sto esplosivo piazza sto esplosivo allora guarda che ha scritto ma per caso streami anche 20 a breve c'è lo shock xbox sì allora quando adesso che riesco a mitico light adesso che riesco a farlo così come vedi adesso sì assolutamente sì prima non riuscivo non riuscivo perché non riuscivo a trasmettere il 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 browser quindi non ce la facevo invece adesso sì praticamente streamo anche gli eventi porca no incredibile voi davvero non ricominciate tutti i progressi non salvati andranno persi mamma mia quello lo porto da me è caso ma viene anche da me certo 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 sì no facciamo un mega zio facciamo una mega show 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 chesata lì come si può dire facciamo una show chesata facciamo una show chesata insieme se riusciamo a fare così amico mio riusciamo a fare la doppia live streaming allora domani l'amico zio Mario viene da noi in esclusiva certo 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 domani il mitico zio Mario viene da noi in esclusiva e giochiamo a Rocket League ci divertiamo poi penso che arrivi anche altra gente amico mio ovviamente penso che arrivi anche altra gente perché oltre a io e zio Mario ci saranno hai visto zio Mario che sto giocando hai visto zio Mario che sto giocando con la Xbox amico mio io sono multi piattaforma bella questa dai Starfield mamma mia mamma mia cosa hai pronunciato Light incredibile Starfield comunque io vado su tutto Starfield è bello bisogna vedere quando uscirà però sì è tanta roba i 12 sì no la showcase amore mio ma il gioco uscirà l'anno prossimo ho già detto con lo sport però è incluso nel game pass cose fichissime io ho tanti giochi con inclusi nel game pass che voglio porca inclusi nel game pass che voglio fare che voglio portare anche sul canale porca oh ah ecco perché mi stanno sparare dai vedi da madonna ragazzi perfettamente lento oh ma che non va di qua ma sai scemonito è un attimo patata allora assolutamente sì lo showcase lo facciamo faremo anche quello di Xbox sei bravo a questo game insomma robina insomma 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 allora ragazzi ti saluto ci vediamo domani è stato un piacere conoscervi anche a noi grazie mille va via light kill ah va ragazzi salutiamo il nostro amico domani ciao light grazie mille che sto morendo ancora ma non c'entri tu orca loca e grazie dei pizza è grandissimo veramente ti ringrazio un botto e ma porca loca ma scappa scemonisco e corri sta rischendo la morte ma che è stato inaugurare il canale si è grande zio mario che è figata che è figata amico mio noi facciamo Xbox siamo Playstation Siamo a multi multi gaming e questa cosa mi piace un botto si è parlato tanto di te uh caspita ah grandi grandi grandissimi notte a tutti ciao ciao light buonanotte grazie grazie di tutto davvero ti aspetto domani sera c'è anche lo zio mario fai pubblicità alle ore 21 alle ore 21 porca loca no e chiudiamo questa live con una morte epica una morte epica allora io avrei anche le sigle di chiusura quelle cose lì fighissime ragazzi però non so se ringraziamo tutti i nostri amici vi ringraziamo perché non so che cosa succede adesso quando mando le sigle finali ah le mie stelle è proprio la proposta veramente fanno vedere nota a tutti non mancherò ciao light grazie mille domani sera fai un botto di pubblicità così arriva un sacco di gente a vedere il mitico marco drums games la mitica bragali il mitico zio mario e tutti gli altri ragazzi perché le lobby sono da 4 quindi adesso non so se arriva sharder o se arriveranno altri amici di zio mario o insomma qualsiasi cosa per ciao nick grazie mille grazie mille passa anche tu domani sera nick che giochiamo a rocket league che è un gioco fichissimo di macchine e palloni cose veramente particolari macchine e palloni se lo sono proprio andati a inventare un gioco così sinceramente però è divertente notte robin grandissima grazie mille di essere stata con noi ti aspettiamo anche domani e poi mi raccomando ragazzi domani è l'ora 21 e invece sabato faremo formula 1 gran turismo poi vediamo in base a come ci voglio io sabato è figo sabato è figo perché devo giocare con l'amico sharder per forza è obbligatorio e notte notte ciao ciao dsc grazie grazie amico mio grazie mille anche a te grazie di essere stato qui con noi ti aspetto domani ti aspetto sabato ti aspetto domenica poi ragazzi farò una mega una mega maratona il 2 giugno che è festa farò una maratona di 24 ore quindi dormirò anche qui sul divano insieme a voi e voglio che state con noi 24 ore non si spegne la telecamera non si spegne la telecamera poi io vado a letto a dormire quindi rimarrò qua la telecamera a sto cazzo ma guarda loro ma il tuo è festa ciao carlo ciao c'è carlo ciao robin buonanotte 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 nick grandissimo amoris che è venuto zio mario ciao zio mario grandissimo iscrivetevi al suo canale ragazzi grandissimo domani zio marietto mi raccomando ci vediamo prima così vediamo di mettere anche il tuo video di fare una cosa un po' figa è una cosa un po' funzionante e il grande maurizio che è passato prima grandissimo maurizio sharder sharder design ovviamente lord manuel grandissimo manuel uomo tigre grandissimo uomo tigre che quando entra mi fai cantare la canzoncina deciso il grande nostro amico deciso lord la julie sto andando indietro un po' nella chat a vedere chi è anche entrato ragazzi sharderino i kevin kevin l'amico kevin grande kevin la robina vedi la robina grandissima l'abbiamo detto tutti va bene quindi ragazzi io vi ringrazio vi saluto sigla sigla vi diamo un bacio e buonanotte a tutti e sigla via aspetta e metti da lì attaccati su aspetta che vi faccio la sigla finale e poi chiudiamo e mettila l'animate la mano è bellissima questo ti giuro amore adesso metti la sigla eh lo so amore mio ma non ce l'ho non ce l'ho portata di mano no non hai il video quando li monti la tiktok porca locavo non trovo un video con sì ma è una zonica bella bella eccola lì sì era il video di un gioco vi faremo meglio vi faremo meglio ciao ragazzi tutto meglio tutto meglio ciao amici miei buonanotte a tutti ciao ciao e sia Mario Lide ciao zio Mario buonanotte ciao ragazzi buonanotte buonanotte ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti